Sono circa le tre, sono dormato adesso a casa, anzi vedo 20 minuti che possono dormire, ma di là c'è un mio compagno all'istanza che si sta andando da fare affinché non dormo. E adesso è il minimo, prima di che si deve andare, riuscirò a dormire, fino a domani, voi dovete dare le mie occhiaie, buonanotte.